Ciak, benvenuti a Parlare alla GAM. Ho già usato 7 minuti dei miei 15 minuti per prepararmi, perché sono le 12.07. Quindi mi rimangono 15 meno 7, sono 8. 8 minuti per presentare il programma Parlare alla GAM. Innanzitutto mi presento, sono Caroline Christophe Pakarjieff, il direttore nuovo della GAM, Galleria Civica d'Arte Moderna di Torino e del Castello di Rivoli. E sono nella cosiddetta Arena Paolini. La cosiddetta Arena Paolini è un'opera per l'esterno creata da Giulio Paolini quando si è chiuso lo spazio del garage aperto, di un cortile aperto vicino al loading port, al luogo dove arrivano tutte le opere d'arte per le varie mostre. Fu chiuso e nel 2001 si aprì questa bellissima arena, immaginata come luogo per gli incontri con artisti o con altri personaggi della cultura, soprattutto per l'estate. Adesso non è estate, è primavera, per cui è un po' freddino per fare un incontro oggi. Comunque sia ci siamo e sotto di me vedete uno spazio che sprofonda nel cielo anziché alzarsi verso il cielo, come se io fossi sotto sopra sul cielo, ma invece sono sopra sotto sul cielo, con le pareti del museo ai miei fianchi e i quadri che scappano via. Questo lavoro di Giulio Paolini è quanto di più lontano si possa immaginare da Andy Warhol. Andy Warhol, grande artista della pop, non solo americana ma internazionale, noto artista in tutto il mondo. Voleva essere una celebrità e voleva essere famoso e lo è. Lo è diventato molto presto nella sua carriera artistica perché ha pensato sempre al fatto che nella società di comunicazione di massa bisognava comunicare alla massa, della massa, e che la celebrità, per esempio l'attore Marilyn Monroe o Liz Taylor, fossero in fondo le icone tragiche dei nostri tempi, consumate e mangiate da migliaia e milioni di persone che le guardavano sugli schermi e forse malinconici, solitari individui nella loro vita privata. Questo è un pochino anche l'immagine della grande Eddie Sedgwick, grande Eddie Sedgwick che lui ha immortalato in opere in cui Eddie Sedgwick piange guardando se stessa ripresa da Andy Warhol in un altro schermo. Questa tragedia della solitudine contemporanea che si invece moltiplica e rifrange nella riproduzione dell'immagine della celebrità è alla base del concetto dei famosi 15 minuti alla GAM e prima di essi i 15 minuti di celebrità che ognuno di noi nel futuro avrebbe avuto. Non si sa se Andy Warhol abbia mai detto questa frase, non si sa con certezza. Fu riportata all'interno di una mostra a Stoccolma nei primi anni Ottanta da un critico d'arte quando Warhol fece al Moderna Musette la sua mostra. Tra l'altro su questo potrei dedicare altri 15 minuti solo al rapporto fra Stoccolma, Moderna Musette e arte contemporanea. Ma avendo adesso ancora 4 minuti, a meno di non sforare e fingere che abbiamo cominciato a mezzogiorno e deciderò questo fra 3 minuti, andiamo avanti. Dunque, non sapendo se Andy Warhol abbia mai detto che noi nel futuro saremo tutti famosi per 15 minuti, grande frase democratica che ricorda il pensiero di Walt Whitman, grande poeta dell'Ottocento americano che scrisse all'inizio di foglie d'erba, leaves of grass, I sing myself and celebrate myself because every atom belonging to you as well belongs to me or because every atom belonging to me as well belongs to you. Io canto me stesso perché ogni atomo che appartiene a me appartiene anche a te. Questo grande sogno democratico dell'America si ritrova in questo emigrante, questo giovane artista immigrante che va a fare fortuna in America. E per Andy Warhol l'idea che ognuno di noi potesse essere famoso per 15 minuti era premonitore, era una visione del futuro che lui non conosceva ma che noi conosciamo con YouTube, con Facebook, con Twitter, con Instagram. In effetti viviamo in un mondo in cui ognuno di noi è famoso per 15 minuti, forse. perché ognuno di noi lo è all'interno di una micro comunità che crea e che può mettere insieme una persona in Africa con una persona in Canada, comunque una micro comunità sulla rete dove ognuno di noi si può sentire famoso per 15 minuti. Il piccolo problema di Andy Warhol rispetto alla storia e al futuro è che oggi 15 minuti sono un'eternità e quando io chiedo alle persone volete parlare alla GAM per 15 minuti mi guardano terrorizzati, io non potrò mai parlare per 15 minuti, casomai 30 secondi o 6 minuti al massimo, oppure mi devi fare delle domande perché l'SMS è un botta e risposta non è un monologo, ma il punto è che i 15 minuti sono diventati 15 secondi oggi e questo ci dice tutto della tragedia della nostra epoca, una tragedia di comunicazioni frammentate e brevi e della solitudine anche nella società digitale in cui viviamo, queste comunicazioni con i nostri telefoni, smartphone, eccetera. In ogni caso, tre minuti che ho, vi racconto che Andy Warhol ebbe sempre una fascinazione per il mondo registrato, cioè il mondo del cinema, il mondo filmico e poi il mondo video e il mondo televisivo. Tanto è vero che negli anni 80 ci fu un programma realizzato da Andy Warhol e dai suoi amici che si chiamava proprio Andy Warhol's 15 Minutes e questo Andy Warhol's 15 Minutes comprendeva dei monologhi, del parlare da parte di solo celebrità che lui conosceva e che venivano e andavano nella famosa factory, quindi il contrario di quello che è il nostro proposito. Nel senso che il nostro proposito a parlare alla GAM è più vicino al primo Andy Warhol che riprendeva con la telecamera chiunque, la persona anonima chiunque e non soltanto le grandi celebrità che passavano nel suo studio. In effetti, quel che emerge in lui, nel suo lavoro, è il pensare che Marilyn Monroe o la persona anonima fossero in fondo accomunate dall'esperienza della vita e fossero in una sorta di rumore bianco, uno spazio identico in cui tutto si ripete e nulla accade. Questo è esattamente quello che lui ha rappresentato filmando l'Empire State Building, il grande grattacielo a New York, per ore e ore e ore con una camera fissa senza che accadesse nulla di narrativo. E chi guarda Empire, chi riesce a guardare Empire per otto ore o nove ore che sia o sette ore che sia può vedere solo impercettibili differenze di luce del giorno eccetera ma fondamentalmente è un film noiosissimo. Contrariamente al film noiosissimo di Andy Warhol Parlare alla GAM oggi è un progetto per celebrare il contrario, per celebrare le conoscenze specifiche, i saperi unici e specifici che ogni individuo ha. Quando chiedo al giornalista della RAI vuoi parlare alla GAM? E mi risponde no perché io faccio domande, non parlo io e io rispondo ma qual è la tua passione e egli mi dice Walter Benjamin è di questo che parliamo alla GAM è il giornalista che anziché intervistare l'artista o il direttore del museo parla alla GAM di Walter Benjamin e così parlerà alla GAM la figlia di chi ha realizzato la poltrona Sacco oppure un artista che ci parlerà di che cos'è un daguerotipo per esempio per cui nell'insieme di questi brevi episodi di questo serial televisivo che andrà su internet sul nostro canale YouTube e che avrà spero un grande pubblico non qui all'Arena Paolini ma un grande pubblico in rete si impareranno le cose più diverse dallo sci alla cucina alla passione per un quadro di Monet e così via di modo da creare una coralità di saperi unici che sono un archivio collettivo di storia orale di Torino il tempo è scaduto, grazie